Senti Filipe, non c'è molto senso alle scene che sono state girate fino adesso, tipo quelle al mare. C'è almeno un senso dopo sulla cosa della coppietta? La parte della coppietta in realtà era una parte che viene dopo rispetto alla narrazione. Infatti succedono la mattina quelli al mare, poi tutti quanti gli infettati cominciano a camminare verso l'entroterra e quindi poi aggrediscono i vari personaggi che appaiono dopo durante la sera. Quindi anche la coppietta, poi faccio vedere vari paesi, che ne so, Taurisano, Sarano, Gento, così la gente fa Uh che figo! A posto! Sarebbe stato bello, bello davvero. Un vecchio del insieme. Ricoletto, Ricoletto! Aaaaaah! Aaaaaah! Sì, che c'è dentro. No Grazie a tutti Pronto ospedale, ho un ferito grave Preparate un ragazzo di barella in 5 minuti Preparate un ragazzo di barella in 5 minuti Cazzo non mi morire Nicoletta La ragazza mi ha lasciato E' colpa mia Sono stato anche bocciato Non andrò più via Passerò l'estate qui Ehi Gioia Non è quest'ora alta sola Gioia Non sa che può essere pericoloso Bene siamo canti stasera Ma che cazzo Ah 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 San Giangelo, ma potresti fare le spurghigliere o lì? Io ho usciuto, mi hai fatto una regina di arbori e le faccio uscite tutte. Una bici di pallavino non lo sai? Mi faccio qualche cosa sto dicendo. Speriamo. Buon papà, a posto. Cosa è? Ci sei di qui? Buono. Buono, guarda. E' questa mia. E' questa mia. E' questa p*****a nel tuo cuore. Questa? È la ruota. Ma ce l'avete portato. Quella che ci ha un piede del pacco che siamo usciti. Fai questi pacchi che sta bene a rubare la prima. Sì, sì, sì. Buon tang, con l'apertura accendendo... E' questa scegata. Oh! 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 Guardate davvero sta dico, mi ha giustato, ho vannato Ah si si, hai già capito, si, sono morti i clienti, pare che non c'è il virus Davvero sta dici? Si, ti dico che è così, è così, domanda Andrea E' buona Ah sta facendo bene Ah ma sta vincendo molto Milano No sta facendo proprio bene Morti dove? Oh sta a tirito, c'è la partita Uuuuuuuu Ehi c'è la partita qui termina va bene? E non ti dai dal barbano, farbore non sentiamo Ah affanculo Uuuu paa Buona fana questa gioca Cosa? Ma che cazzo dei miei amici donna, non mi ha zicato Oddio, il sangue è continuato ad uscire Aspetta, c'è mio nonno, così mi disinfetta Oddio Amore, amore come stai? Fuori Donna Ponzio Caracciolo ce ne vado Chi è? D'è? 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 C'è il mio casimento D'è? D'è? Non c'è il mio percorso che si vive di venite figlio venite che si che bebia di una cosa oh mio figlio oh mio figlio o dedo no corpo si sta a cosa ah no corpo devo dentro o dedo ahahah meno male che era lavato il moccato stasera dolcetta ci hai permesso c'è successo e ci sta successo qui giochiamo a carte giochiamo a carte ah 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 Oh, Marco Tirassi, stai un'agnola! Qui Radio SBO. Interrompiamo le trasmissioni per informarvi che un'epidemia simile alla rabbia sta colpendo la popolazione. I soggetti infetti sono altamente contagiosi. Restate nelle vostre case o uscite armati di fucile. I comuni di Casarano, Uggento, Taurisano e Matino hanno fissato una ricompensa per chi contribuirà a fermare i contagiati. Evitate qualsiasi tipo di contatto. L'unico modo per eliminarli è colpirti alla testa. Se verrete graffiati o morsi, sarete contagiati nel giro di 10 minuti. Se riesco a rimanere in vita c'è ancora una speranza per l'umanità. Cosa caccia di diavolo è stato? Sarà stato uno di quelli stupiti zombie, segna più uno. E poi dicono che da queste parti non si riesce a far soldi. L'avevamo rimasti con la cantoncina? L'avevamo rimasti con la cantoncina? L'avevamo rimasti con la cantoncina? Sì, sì, sì. questo è un capolavoro gatto a bordo di fianco al mio finestrino il tuo miagolio è un dolce per me come un pacco di noce